Tifosi Nerazzurri appassionati di calcio giovanile, un saluto da Filippo Sartirana, benvenuti allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, torna il campionato Under-19, comincia ufficialmente il 2020-2021 dei Nerazzurri di Armando Madonna, lo fa con la prima giornata del campionato Primavera 1, e cioè Inter-Sampdoria. Stagione che inizia ufficialmente ora con il primo pallone toccato dalla Samp, Chinque prova a farlo cercando Esposito, che di testa va direttamente di prima da Oristaglio, che controlla Oristaglio in area di rigore, Oristaglio col Mancino, che parata di Avogadri, che salva la Samp, Esposito, Vezzoni, Mirarchi, tocco per Satriano, che però stava facendo un movimento opposto, ma riesce comunque a tenerla in campo, la palla limite, Esposito prova a piazzarla! Arriva il vantaggio dell'Inter, segna sempre, Sebastiano Esposito! Bravissimo Satriano a impegnarsi a tenere in campo un pallone non facile, poi praticamente per uno come Esposito un calcio di rigore in movimento, botta secca di destro, non c'è scampo per Avogadri, e 1-0 Inter. Giordano, si a Tunis, c'è un po' di spazio in mezzo, Jai in pie, pallone in profondità, calcio col sinistro, grandissima risposta di Stankovic! Sale il pressing dell'Inter, Satriano mette in difficoltà Angileri, Aquino, esce però bene la Samp, finisce però col perdere il pallone, ma in una zona sicuramente meno pericolosa. Oristanio, se la porta sul sinistro vede la porta, fa partire il mancino, pallone alto non di molto, anche se Avogadri sembrava abbastanza sicuro, era battezzata fuori. Calcio di punizione che va direttamente verso la porta, libera la difesa dell'Inter, sempre molto pericolosi. Si calci da fermo, Trimboli va ancora in mezzo, la chiama Stankovic, che la fa sua con coraggio e sicurezza. Iepes, ancora l'uscita veloce, palla al piede della Samp, si a Tunis, Giordano. Il cross di Giordano a cercare il secondo palo. Aquino, pallone in profilità che passa per Trimboli, Trimboli con il destro ancora Stankovic. Uno contro uno di Esposito, arriva Moretti, Esposito se la porta sul sinistro, poi gioca da Moretti, va al cross di prima sul secondo palo, Ristanio di testa! Avogadri. Nuovamente Esposito, Moretti all'altezza del primo palo, la sfiora, pallone che arriva al limite, Mirarchi scivola. Era questa l'ultima occasione del primo tempo che si chiude 1-0 per l'Inter grazie al gol al ventitresimo di Sebastiano Esposito. Sfera ancora in area di rigore, Giordano, questa volta con il destro, il cross e IA in piede, tutto solo! Grandissima parata di Stankovic. Moretti. Lunguro Satriano che l'appoggia di prima per Esposito. lavora a spalla alla porta, è il numero 9 dell'Inter. Esposito, buono il pallone, Squizzato controlla, calcia con il destro! Arriva il raddoppio dell'Inter con Niccolò Squizzato che la mette in buca d'angolo. 2-0 Inter. Ottima l'apertura per Squizzato che controlla con il sinistro, calcia con il destro, la mette nell'angolino. Gole Assis per Esposito, ma qui la grande giocata è tutta di Squizzato che la mette nell'angolino. un po' di spazio, uno contro uno su Moretti, il cross di Gaggero, sul secondo palo Stankovic. Tocca quel tanto che basta. Calcio d'angolo, ma toglie il pericolo dall'area piccola. Iepes. Franco Fonte. Pensa addirittura a sinistro! Pallone deviato che sfiora il palo, sarà calcio d'angolo per la Samp. Uno contro uno su Somma, Wieser si autolancia, ottima giocata di Wieser, c'è mezzo Bonfante, arriva anche Oristanio, Wieser sceglie di ragionare, poi trova un buona traccia per Oristanio, se la porta su sinistro Oristanio, calcia in diagonale! E arriva il tris dell'Inter, non poteva mancare la firma di Gaetano Oristanio. Altro bel gol dei Nerazzurri, alla fine è riuscito a liberare il suo sinistro Oristanio, intelligente anche Wieser, ad aspettare l'arrivo del numero 10, che controlla, avanza e la mette nell'angolino, sempre precisissimo col suo sinistro Gaetano Oristanio, 3-0 Inter. Alla fine parte Esposito con il destro, pallone deviato, ma non c'è più tempo, finisce qui, finisce 3-0 per l'Inter, che raccoglie i primi tre punti del suo campionato. Grazie per la visione!